Una banca va in default, vengono azzerati i risparmi dei cittadini, non si trovano i responsabili, ecco stai a vedere che adesso accuseranno i poveri risparmiatori paradossalmente azzerati. Faccio per dire, ma noi sempre più constatiamo anche nel vedere come vanno certe cose che si è arrivato a un livello di sopportazione purtroppo, proprio perché siamo abituati che troppo spesso la giustizia non fa il proprio corso. Da ieri che i risparmiatori, gli aderenti all'associazione cercano di contattarci, molto amareggiati, veramente molto amareggiati da questa sentenza che brucia veramente perché non c'è solo lo smacco di aver perso i soldi, ma c'è un desiderio ancora non soddisfatto che almeno giustizia venga fatta. C'è amarezza nelle parole della presidente dell'associazione vittime del salvabanche Letizia Giorgiani all'indomani della sentenza che ha assolto gli ex vertici di Banca Etrugia dall'accusa di ostacolo alla vigilanza. Ora l'attenzione si sposta sugli altri filoni dove l'aspettativa dei risparmiatori è ancora più forte. Una sentenza che lascia tanto l'amaro in bocca perché comunque il primo filone d'inchiesta si conclude così con questi amministratori che non hanno commesso nessun dolo. A questo punto però visto che la banca poi è andata in default e tanti cittadini hanno perso i loro risparmi ci viene da chiedere da dove provengano le responsabilità. Perché se loro non vengono prosciolti dall'accusa di aver in qualche maniera falsificato il bilancio significa che era in chiaro la situazione della banca e era in chiaro anche agli organi di vigilanza e qui mi riferisco ovviamente a Banca d'Italia e Consub. Bene, significa quindi che ci dovremo spostare verso organi di responsabilità più alti, i responsabili ci devono per forza essere. Specifichiamo che ovviamente è anche il primo filone d'inchiesta e noi siamo in attesa anche degli altri filoni ben più importanti per i risparmiatori che è quello di banca rotta fraudolenta e infine quello di truffa perché ovviamente abbiamo anche noi le carte in mano abbiamo un sacco di risparmiatori con casalinghe, operai, persone diciamo con un determinato profilo che invece hanno Mifid di grandi investitori. Ecco l'unica cosa che posso dire di concludersi di questo primo filone d'inchiesta è che speriamo fortemente che ciò non indebolisca il procuratore Rossi che invece noi cercheremo per quanto possiamo di appoggiare, infatti abbiamo già chiesto al GUP Anna Maria Loprete di poter consultare gli atti di questa sentenza.